Degustazione alla cieca, blind tasting o degustazione alla veigle. Comunque la sedica, la degustazione alla cieca viene sempre vista un po' in modo intimidatorio, soprattutto perché sembra che sia un po' ristretta ad una cerchia di degustatori esperti che dimostrano le proprie abilità nel riconoscere il vino, il vitigno, addirittura l'annata. Io non sono molto di queste idee, io sono dell'opinione che la degustazione alla cieca sia uno strumento validissimo, molto efficace, soprattutto anche applicabile a persone meno esperte, curiosi, appassionati, che abbiano chiaramente un minimo di basi sull'analisi sensoriale, quindi su come funzionano i propri sensi e sulla conoscenza delle principali componenti nel vino, nella descrizione della degustazione. Io la trovo molto efficace e soprattutto la uso tantissimo la degustazione alla cieca per assaggiare, per degustare i vini, principalmente per tre motivi. Il primo perché con la degustazione alla cieca, coprendo l'etichetta come le bottiglie qui alle mie spalle, si elimina la componente visiva, che è il senso che più tra tutti, quello nostro più evoluto, ci influenza nelle scelte, nelle preferenze, quante volte ci viene da notare l'etichetta di una bottiglia, o quante volte abbiamo aspettative alte quando vogliamo degustare un brunello, un barolo, quindi il prestigio della denominazione. In questo caso, coprendo l'etichetta, eliminiamo questa componente e cerchiamo di gestire quella che è la componente soggettiva sul pregiudizio. E un po' i famosi bias cognitivi, che ce li abbiamo nella vita in tutti i campi di applicazione possibili, ce li abbiamo ahimè anche nel vino, perché purtroppo ci facciamo delle opinioni sbagliate in partenza perché partono proprio da un giudizio, un'opinione sbagliata fondata su quel determinato vino. E un altro motivo perché la ritengo molto efficace è perché la degustazione alla cieca ha una centralità sui nostri sensi olfattivo-gustativi, quindi effettivamente siamo forzati a riconoscere e attivare molto di più il nostro olfatto e il nostro gusto. La terza cosa, la terza aspetto che mi affascina molto della degustazione alla cieca è che non ha regole, che è anche l'aspetto che un po' fa perdere un po' in un bicchiere d'acqua. Ma penso che sia molto importante perché le regole le possiamo stabilire noi. E quindi una degustazione alla cieca può essere organizzata secondo tematiche e secondo degli schemi, dei criteri attraverso i quali vogliamo indagare su delle componenti particolari nel vino oppure vogliamo indagare sui nostri sensi, sulla nostra sensibilità. Facciamo degli esempi. Sicuramente la degustazione alla cieca va organizzata facendosi delle domande, cioè che cosa stai cercando in particolare in questo vino o qual è la componente che ti interessa risaltare in un determinato vino. Sicuramente senza stare a giocare, indovinare il vino, il vitigno o altro, si può tranquillamente farla e condurla da soli una degustazione alla cieca. È ovvio che il confronto con altre persone è sempre utile, ma non sempre ci ritroviamo in condizioni di convivialità, quindi tranquillamente possiamo acquistarci due bottiglie. La cosa importante è che nei vini ci sia almeno una componente in comune, quindi due vini rossi, due vini bianchi, due mono vitigni, quindi lo stesso vitigno, oppure due vitigni diversi, ma cercare di capire su cosa vogliamo interrogarci. Ad esempio, vogliamo capire come lo stesso vitigno in due regioni diverse abbia delle caratteristiche aromatiche differenti e come il clima influenzi queste caratteristiche aromatiche. Prendiamo uno chardonnay dalla Sicilia e uno chardonnay dall'Alto Adige e li confrontiamo, copriamo l'etichetta, li versiamo in due bicchieri, mettiamo un numerino sotto al bicchiere in maniera che non lo possiamo vedere, le scambiamo, le invertiamo e su un foglio bianco iniziamo a scrivere quelle che sono le nostre impressioni, quindi come sono questi aromi, sono maturi, sono più freschi, meno freschi, sono di frutta tropicale, di frutta più citrica, ci sono gli agrumi o meno, com'è l'acidità, è più alta in uno, è più bassa nell'altro, quindi ragionare sempre sul confronto. Per questo è importante la degustazione comparativa basata su due vini. Sui vini rossi, ad esempio, ci possiamo interrogare sui tannini, quindi prendendo due vitigni differenti, che è molto utile, prendiamo un vitigno con tannini più bassi come il pinonero e un vitigno con tannini più massicci come ad esempio un aglianico e cerchiamo di capire la natura di questi tannini e cerchiamo di capire come effettivamente riconoscerli, se siamo in grado di riconoscerli. Non sempre succede, possiamo essere veramente tratti più di una volta in inganno. Quindi porsi sempre delle domande e soprattutto non importa giocare a indovinare il vino o il vitigno, ma più che altro è importante capire che tipo di domande porsi quando ci si approccia a una degustazione alla cieca. Un'altra interessante potrebbe essere quella sui differenti stili di un vino. Ad esempio, uno stesso vitigno può essere affinato in acciaio, in botte grandi oppure in anfora per dire, quindi le stesse tipologie di vino può assumere delle caratteristiche differenti, ma alla fine ad un denominatore comune. Quindi come vedete ci sono tante possibilità di spaziare all'interno della degustazione alla cieca e soprattutto non importa essere dei grandi espertoni. Calisci su!